Un'organizzazione dedita al contrabbando di benzina e gasolio con base ad Albano Laziale e depositi di stoccaggio anche a Darde e a Pomezia è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che ha sequestrato 5 impianti di distribuzione stradale, 5 autoarticolati e 130.000 litri di prodotti petroliferi. In totale sono state denunciate 21 persone. Le indagini sono partite da un controllo di rutina ad una stazione di servizio. Dagli accertamenti è emersa l'immissione sul mercato in nero di oltre 5 milioni di litri di carburante con l'evasione di oltre 4 milioni di euro tra IVA ed Accise. Regista della frode è un romano che aveva costituito diverse società cartiere le quali prive di struttura operativa e dipendenti emettevano falsi documenti di trasporto. Tale documentazione veniva utilizzata più volte per vari viaggi e poi distrutta per evitare la ricostruzione del reale giro d'affari. I proventi illeciti venivano reinvestiti nell'acquisto di impianti di distribuzione disseminati nell'Italia centrale. L'autorità giudiziaria ha assegnato oltre 70.000 litri di gasolio al Dipartimento dei pompieri che potrà utilizzarli per il rifornimento dei propri mezzi di soccorso.